È stata una campagna estremamente intensa, attiva, dura, tanto da innervosire molti e non mancano polemiche, provocazioni, colpi bassi dell'ultimo giorno e quindi con un certo sollievo che molti votano, alcuni convintamente, altri meno, ciascuno comunque con le sue buoni ragioni. Ho votato sì perché credo che le ragioni del sì prevalgano anche se anche il sì ha i suoi difetti, quindi snellire, togliere questo bicameralismo perfetto che lo trovo ridondante, nato anche per dei motivi storici nell'epoca del post fascismo e fondamentalmente questo aspetto di snellimento mi ha convinto. Questa riforma della Costituzione non mi piace per un motivo semplicissimo perché credo che le regole fondamentali di uno Stato debbano essere sostanzialmente condivise da tutti e non approvate a colpi di maggioranza e quindi è un po' l'arroganza con la quale è stata disposta la riforma della Costituzione. Pareri informati e meditati in alcuni casi, meno in altri con un tasso di partecipazione che resterà un'incognita fino alle 23 e una quota di indecisi che era molto alta in tutte le rilevazioni.